Abbiamo approvato la delibera che porterà a piantumare 1428 alberi nella città di Bergamo nei prossimi mesi. Alberi di una certa grandezza, infatti avranno un diametro di 20 cm e saranno alberi autoctoni. Abbiamo scelto gli alberi tipici della nostra zona che hanno la capacità particolare di assorbire le polveri sottili come i platini e il CO2 come i tigli. Andranno a completare alcune strade alberate dove ci sono appunto delle zone dei buchi che noi andremo a ripiantare e andremo anche a piantarli nei giardini e nei parchi pubblici. L'idea è anche quella di dare spazio alle donazioni dei cittadini. In questi ultimi tempi c'è una forte sensibilizzazione delle persone sul tema del verde e sul tema delle piante in città. Da settembre a oggi noi abbiamo accolto e piantato circa un centinaio di alberi donati dai cittadini, da singoli cittadini, da mamme che hanno voluto fare un regalo per il compleanno ai loro bambini o hanno voluto donare una quercia al loro bimbo appena nato. Associazioni, sempre anche in questo caso di mamme ucraine, che hanno voluto ricordare una tradizione del loro paese e quindi hanno donato 30 piante, 30 querce alla città di Bergamo. A scuole come l'Istituto Mazzi, liceo Manzù, che nei loro percorsi di studio sull'ambiente e sui cambiamenti climatici hanno capito l'importanza delle piante e quindi collaborano con il Comune di Bergamo per la piantumazione sia lungo viali e strade della città sia per zone verdi che costeggiano le strade di ingresso alla città proprio per creare quelle barriere vegetali che ostacolano sia l'inquinamento ma anche il rumore causato dalle strade. La nostra idea è quella di sollecitare i cittadini di Bergamo a donare sempre di più alberi. Stiamo mettendo appunto una piattaforma che permetterà ai cittadini di scegliere con un catalogo vero e proprio l'albero che vogliono donare, la zona dove piantare questo albero e potranno poi donare su un IBAN specifico la cifra corrispondente alla pianta scelta che verrà proprio antumata in un momento pubblico durante l'anno al quale saranno invitati tutti i cittadini di Bergamo che hanno questa sensibilità e non solo. L'obiettivo è quello di piantare in questi cinque anni almeno 20.000 alberi. Questo perché la presenza di alberi in città garantisce un benessere ai cittadini che è uno degli obiettivi che il sindaco di una città deve avere. Sappiamo che il sindaco ha come uno dei primi obiettivi quello della salute dei suoi cittadini. Tramite la piantumazione delle piante si cerca appunto di raggiungere anche questo obiettivo. Grazie 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 Grazie